Sono emozionatissimo, non vedevo l'ora, aspetto questo momento da tutta l'estate. Stasera sia io che i miei musicisti cercheremo di dare il massimo. Siamo tutti veramente molto contenti ed emozionati. Vediamo appena il sassofonista di Sarah J. Morris, il chitarrista di un vecchissimo gruppo molto famoso degli Oasis, il pianista di Sting, il bassista di Phil Collins. Abbiamo veramente grandi musicisti e questa sera sarà veramente una grande serata. Sono molto onorato.